I got options, I can pass that bitch like Stockton Quindi perché no proviamo ad arrivare a 2000 mi piace per chiudere in bellezza questa serie per spingere già la prossima della prossima estate ma abbiamo ancora del lavoro da fare Prima però come sempre vi ricordo lo sponsor del canale che vi permette di acquistare queste canottine qui a basso prezzo sito affidabile 11calcioit.com link descrizione l'offerta in descrizione date un'occhiata perché è molto interessante Per attivarla però dovete usare il mio codice sconto suite youtube Torniamo a noi però perché qui abbiamo del lavoro da finire dobbiamo provare a vincere il free pit e come sempre contro il San Antonio Spurs e non solo loro non sarà semplicissimo Ovviamente non abbiamo scelta in lottery quindi la possiamo tranquillamente schippare la nostra 32 e dei jazz Quella dei Warriors l'avevamo l'anno scorso e quindi non abbiamo scelta in manco quest'anno e via Come vedete giusto sotto di me abbiamo ancora un anno di contratto per il Meodoka perfetto visto che questa è la durata della serie in pratica Ho fatto un'offerta invece a Mike Miller sì quel Mike Miller come assistente capo allenatore E dopo un paio di giorni di attesa ha firmato quindi perfetto abbiamo lo staff al completo siamo arrivati al livello 16 anche i livelli tra l'altro avranno un grande reward che lo rivedremo Andiamo al draft dove avremo pressoché nulla da fare credo Come vedete infatti abbiamo tutta la squadra blindata praticamente per quanto Herbert Jones comincia ad avere una certa potrebbe anche scendere di overall L'unico che ci manca è il centro di serve ovvero Usman Garuba che è andato in scadenza ma non penso che sarà un problema firmare qualcuno di 78 barra 79 overall Il tanto deve giocare il giusto eh ma guardate l'unica opzione che mi davano possibile era prendere Gray dei Dick per Herbert Jones L'overall è lo stesso considerando che credo che a King Bacot questo qua draft 2030 girano già voci che sia un fenomeno Ma poi vabbè manca 20.000 anni chi lo sa c'è 10 anni sto guardando non lo so Comunque dicevo anche se hanno lo stesso overall di Herbert Jones ho capito che posso fidarmi è meglio che me lo tengo e fine così Perché Gray dei Dick ok che è un po' più giovane ma non so cosa mi può dare in termini di simulazioni Magari è rottissimo eh per l'amor di Dio ma abbiamo vinto due titoli preferisco tenere il core almeno il quintetto importante Se poi dovesse scendere tanto di overall possiamo pensare di tradarlo poi ma non penso che sotto il meno uno ci andrà ecco Abbiamo visto un po' le prime scelte nel frattempo non le sto commentando perché non so bene cosa stia succedendo Carey Irving però viene scambiato assieme a THC tra l'altro Carey nel 2030 ha ancora 88 di overall Cioè lui non scende mai eh Harden, KD eh che a parte Carey, Lebron, tutti gli altri si sono già ritirati Lui ha ancora 88 di overall per due prime la sesta che l'avevano offerta anche a noi ma era inutile E quella di fra due anni top 10 protetta E' andato ai Kings Carey Irving e quelli in Mavs prendono De'Lon Paxley alla 6 e poi alla 8 hanno un'altra scelta e prendono William Pigler Non ho idea di chi sia sta gente scusatemi Col punticino che abbiamo preso prima andiamo a sbloccare una struttura specializzata extra Voi direte vabbè all'ultimo episodio ma che te ne fai? Non probabilmente niente però facciamo le cose fatte bene fino alla fine dai Che adesso se non ho capito male ce le abbiamo tutte e riceviamo tutti i bonus con quest'ultimo upgrade Spazio pericino, amministrazione, chioschi, sui di lusso e servizi Credo di sì Non è che sia chiarissima sta schermata qua eh però va bene Ehm free agency Ehm madonna Luca Ehm la la va bene Noi ovviamente non possiamo prendere nessuno Dobbiamo giusto rifirmare quei 2-3 giocatori e poi si prova la run di nuovo verso il titolo Eccoli qua sono subito andato a prenderli Garuba e Fontecchio Garuba ci serviva per anche minuti di gioco Due anni infatti non l'ho Ah sì no no l'ho firmato al minimo alla fine Tutti e due due anni al minimo Fontecchione per come nostro talismano per assicurarci che la situazione vada come deve andare E per completare il roster ho messo lì un Isaiah Artestine che chiedeva pochissimi soldi Ho approfittato pur avendo buono vero al magari scende eh E uno scheriterri Più per il meme che per altro eh E allora non perdiamo altro tempo Jared Jackson è sceso di 1 94-94-94 Ma scusami come più 2 no ma sono sempre i soliti numeri messi a cazzo di cane Herbert Jones non è sceso ha perso un po' qua di fisico ma non è sceso di overall Non pensavo molto bene Garuba era già lui è salito di 3 Che si potrebbe anche pensare di far Beh in realtà no perché c'è Kispert Vabbè se non mi scendono i vecchi Fontecchio ha perso tutto il possibile ma non l'overall Bravo gas Diciamo che il supporting cast non sarà fantastico quanto quello degli Spurs Ma questo terzetto adesso tutti e 3 94-94 di overall E Collier ho controllato è a 95 di potenziale Facendolo giocare, facendolo sviluppare Addirittura ha superato Cooper Flagg Che dovrebbe essere il prossimo mostro finale dell'NBA E Isaiah Collier l'ha superato Quindi potrebbe salire ancora di 1 Collier Mentre loro 2 sono fermi qui Non vi sorprenderà vedere questa rotazione direi Con il solito quintetto Vigemille, Kelware e Kispert Con 80 di overall dalla panchina E poi via via tutti gli altri Abbiamo la solita valangata di obiettivi Dice Udoka che dobbiamo rinforzarci nel ruolo di guardia Non mi interessa Anche questa cosa qui è stata completamente reworkata l'anno prossimo Dando molta più profondità ai dialoghi Insomma vi ripeto Sarà una bella svolta per il MyGM Non vedo l'ora Non credo di poter rimanere sotto al luxury tax amore mio Infatti siamo sopra di 39 milioni circa Come vedete Non credo sia possibile Vuol dire tradare uno dei nostri 90 di overall No E il buon Lebronino ci ha chiesto come sempre la solita cosa da nulla Ovvero i nostri San Antonio I nostri I San Antonio Spurs sono tra i nostri rivali più acerrimi Verissimo Vinci la serie di stagionale contro di loro Cosa che a regola season penso Non abbiamo ancora fatto in Quanti anni sono che simuliamo 6? 7? Non lo so Ho perso il conto ormai Tra l'altro se vogliamo dare un'occhiata anche al termine finanziario del MyGM Qui accanto a me C'è scritto Profitti meno 215 milioni Quindi non è che proprio abbiamo fatto per adesso una gestione così Fantasiosa della nostra cosa Si potrebbe alzare un po' i prezzi Ma stiamo recuperando in realtà Perché l'anno scorso eravamo quasi vicino ai 300 mila Quindi pian piano adesso che si vincono tante partite Facciamo il pienone Si vendono magliette Blablabla Stiamo recuperando Nel dubbio butta su ancora un po' i biglietti Va? Che non si sa mai E allora via Vediamo un po' come andiamo Vediamo un po' come andrà Sarà momento del free pit Ce la faremo anche quest'anno Oh! Abbiamo già vinto subito la prima partita dell'anno contro gli Spurs Attenzione 113-111 Con 20 punti di vantaggio presi nell'ultimo quarto Ah! Ok Non ne vinceremo più una durante l'anno Questo lo so Però bene così Interrompo il volo Non tanto per questa richiesta di trade Che è una... Perché abbiamo fatto l'obiettivo Battendo per adesso in tutte le parti di regola del season Gli Spurs Che oltretutto Incredibilmente come vedete Sono appena ottavi Ovviamente Cosa succede? L'unico anno in cui riesco forse a fare il primo seed Gli Spurs sono ottavi Ma certo Ma certo caro NBA 2K Che ancora non sia che per un anno non giochiamo i playoff con gli Spurs e contro Wemby Che ancora c'è Che ancora per l'amor del cielo 22-17 Deve è successo qualcosa O si è fatto male qualcuno O hanno perso qualche giocatore Perché come ho detto prima Raramente vincevamo le partite Abbiamo vinto lo sconto di detto per il primo posto con i Rockets Vediamo se riusciamo a tenere botta Andiamo alla deadline Dove non credo faremo molto Ma vediamo come va Siamo alla 3 deadline Potrei dire come non detto Perché se non sbaglio Non erano a 17 Non erano tipo 22-17 Hanno vinto 12 partite consecutive Da quando ho interrotto gli Spurs E sono a mezza vittoria da noi Che siamo ancora primi A pari merito con i Rockets La solita lotta disumana La sesta squadra E a tre partite e mezzo dalla prima Abbiamo tantissimi nuovi obiettivi Tra cui Herbert Jones Che ci chiede di prolungare il contratto con la squadra Vabbè io ti prometto Tanto è l'ultimo episodio Prometto tutto Questa Vale tutto questo episodio Lebronino ci ha chiesto di vincere la conference Al solito Sicuramente dopo che ce l'ha chiesto non lo faremo L'affiattamento Vabbè cazzate E l'affluenza va bene Ok 100% 100% Perfetto Per lo stesso discorso però delle strutture Facciamolo bene le cose fino alla fine Prolunghiamo Alexander Sar Stessa cosa con Kelware Come vedete cerchiamo di risparmiare un po' Anche se sono anni che non giocheremo Herbert Jones Come ce l'ha detto cerchiamo di tagliarli un po' Lo stipendio visto che comunque avrà una certa Olè E adesso che il buon Goat Waiter ce la mandi buona E proviamo a vincere questa Western Conference Perché in carico fallito? Cosa voleva Udoca? Ah la cosa di potenziare il ruolo delle guardie Vabbè Non aveva senso fare trade Dai Demo avanti Eole a fine stagione guarda un po' Chi vince la MVP Come nella stagione precedente Se non ricordo male Visto che Cuperone ha fatto una sola apparizione Il King Bacon Al primo quintetto L'NBA Sempre cosa positiva Cuper Flagge Invece nel secondo Abbiamo uno anche nel terzo Sì Il nostro terzetto ha fatto tutti e tre i quintetti Direi Non si poteva chiedere molto meglio di così Alla fine non abbiamo fatto Nel primo Nel secondo Sì abbiamo fatto direttamente il terzo Ma penso che siamo arrivati Tutti letteralmente I Nuggets What? Ah Da dove c'è Sono venuti fuori questi Sì Tutti lì A due partite dal primo posto Anche quest'anno non abbiamo vinto la conference Penso che non l'abbiamo ancora vinto in tutto il MyGM Tipo praticamente Vabbè Incredibile Queste sono le statistiche dei ragazzi Cuperone forse meritava anche il primo quintetto L'NBA Mi verrebbe a dire Ecco lì è Il mostro finale Altro che Gli altri E SAR Sempre doppia doppia Solidissima Tre assis Tu recupero Due stoppate Grandissima stagione per lui Al solito modificata al volo La rotazione Proviamo a battere abbastanza agilmente Questi jazz Che comunque non hanno una brutta squadra C'hanno 1-2-3-90 Di overall Cioè comunque Insomma Ecco sì Non è una brutta squadra questa qui E poi affronteremo Se passiamo il turno Questa sorprendente Denver E così La cosa positiva è che Almeno una tra Houston e San Antonio Si elimina tra loro O viene eliminata in qualche altra maniera Prima delle nostre finale di conference Se ci arriviamo Il che non è male Molto poco da vedere in questo primo turno 4-0 secco Con questo doppio trentello di Cooper Flagg E Isaiah Collier Nella prima partita della serie 39 di Isaiah in gara 2 26-13 La Madonna Se Vijay Miller giocasse 25-30 minuti A partita ne farebbe tipo 30 di media Visto lo scorer che è Bene Ci vedo particolarmente incazzati Questa Denver adesso Che Jokic c'è ancora 96 di overall A 36 anni Però il resto della squadra Non è che propriamente Sia una squadra di fenomeni Cioè c'hanno un 77 come playmaker titolare Isaiah Collier Dovresti cioè Ballare sul suo cadavere Come non detto Perfetto Anche perché Collier si è fatto male Ah Vijay Edgecomb Ok Siamo sotto 2-1 Perché abbiamo perso entrambe le partite a Denver Siamo andati a vincere a Las Vegas Adesso Isaiah Collier Ha giocato Ma è tornato sano dall'infortunio Qui San Antonio e Houston Sono 2-0 per i primi Vediamo se riportiamo in parità La se E Ahia Ma chi sono questi qua Cioè ma 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 l'81 Che mi fa 17 punti Dio bono Ah Metti la rotazione a 8 va Ok la solita Niente di Troppo Speciale Niente di Troppo Particolare Proviamo a vincere questa gara 5 Che tra l'altro giochiamo in trasferta Ok Madonna San Antonio ha Subippato Houston Alla faccia Come siamo andati Abbiamo Li abbiamo rullati Cooper Frank 21-22 Alexander Sarr Beh direi che il nostro terzetto Ha performato Ecco così a occhio e croce Beh adesso la sesta in casa Allora se abbiamo vinto la quinta La Ok Bravissimi 162 punti Senza supplementare Cosa vuol dire sta roba 20 su 40 La 3 51 su 84 Dal campo Che cazzo di partita Hanno fatto 47 7 9 Di Cooper Frank Con 3 recuperi 44 7 8 E 3 recuperi Di Ezea Collier Penso che siano Penso che sia La coppiata di prestazioni Più incredibile Della storia Dei playoff La tripla doppia di Collier Era incredibile L'altra volta Ma qui è una combo Di prestazioni Alla faccia di Lebron e Kairi Alle Finals 2016 E non è che Sarri invece abbia fatto cagare Eh anzi E allora dai Teniamo viva questa possibilità Del free pit Andiamo a vincere gara 7 In trasferta Bravissimi Sotto 3 a 1 Rimontiamo Mamma mia Mamma mia Poi se ogni tanto Si ricorda pure Che sa giocare a basket Anche Jaren Jackson Siamo veramente infermabili Finchè arrivi agli Spurs Ecco Io rimarrei dritto dritto Con la rotazione a 8 Che sembra la cosa più sgravata Dell'universo Con Collier E Cooper Flag E infatti Possiamo battere anche lo Mamma mia Cooperone è entrato Nella In god mode Tipo Ok Vinciamo la prima San Antonio Vinciamo la seconda San Antonio Cioè Dall'istante In cui ho messo Rotazione a 8 Penso che Cooper Flag Stia viaggiando A 40 di media Cosa è successo Isaiah Collier E Cooper Flag 156 punti E li abbiamo seccato Di nuovo Ma senti Ma avevano qualcuno Rotto? Forse si eh Si avevano Drake Powell Rotto Gli Spurs Lo vedete che qui In fondo rotazione Vuol dire che non è in campo È infortunato Però Insomma Comunque Stil 4 a 0 A madonna Brooklyn Memphis Dall'altra parte Cooper Flag 38 10 E 4 e mezzo Col 59 Dal campo 88 E liberi E praticamente Il 57 Da 3 Alle finali Di conference Affrontiamo Questi Nets Che di certo Non sono una brutta squadra Anzi Anzi Di quelli vecchi Ci è rimasto Praticamente Solo Mike Michael Bridges Che poi Non è neanche più Ai Nets In realtà Vabbè Ma questa è un'altra par di maniche Beh Abbiamo sweepato Gli Spurs Ma senti Ma questi non è che hanno fatto Un record migliore del nostro No Noi 56 Loro 54 Quindi abbiamo perso In casa E' la prima partita che perdiamo Da quando ho messo la rotazione a 8 Vediamo le due a Brooklyn Come vanno Perdiamo la gara 3 Abbiamo vinto la seconda In casa Però dobbiamo andare Bravi Ok Queste sono le prestazioni Che servono Però dobbiamo vincere Per riprendere il fattore campo Se possibile Ok Meno male Altri 150 punti Segnati alle finali Sì non so Anche perché Essere sotto 3 a 1 E dover rimontare Però questi Dio bono Oh Mollano mica Io pensavo Dopo tempo Supplementare Porca boia Forza La un'altra gara 7 Bravi Forzate La un'altra gara 7 42 a 12 In rimonta Clamorosa In rimonta Clamorosa 25 a 10 punti Gianni Jackson Junior Incredibile Mamma mia Come ci siamo salvati Signori Game 7 Per far diventare Questi Las Vegas Venom Una vera e propria dinastia Anche perché il free pit Non lo fa nessuno Da 20 anni Anzi il 2030 Da più di 20 anni Vediamo che succede Dai Eh ragazzi È andata male Sono venuti a batterci In casa Cosa che era successo Poche poche volte In questi Questi playoff Qui 2031 Dovrebbero essere Nell'ultimo quarto Abbiamo perso di 20 E tutto il divario È arrivato nell'ultimo quarto Perché fino al terzo quarto È stata una partita equilibrata Volete sapere Qual è il problema Si è fatto male Isaiah Collier Eh sì La 2K ha deciso Che non avremmo dovuto Vincere il free pit Perché ci ha Azzoppato Uno dei nostri Big free Forse uno dei big free Più dominanti No vabbè Non esageriamo Dai Non abbiamo fatto il free pit Avessimo fatto il free pit Sì Non esageriamo Però comunque Azzerà quelli a Cooper Flag Hanno fatto delle prestazioni Completamente senza senso E chiaramente Se ti manca uno di questi Credo proprio Nell'ultimo quarto È bella per i Nets Cosa vi devo dire Magari Cooper Flag Vince comunque L'NVP delle Finals Farebbe abbastanza ridere E non sarebbe una cosa Neanche mai successa Quest'anno Nolan Treore 23 punti e mezzo 9 rimbalzi di media 2 rimbalzi 9 assist 2 rimbalzi e mezzo 2 recuperi e mezzo di media Bravo lui Ah no Rettifico Non si è infortunato Vabbè Il risultato è lo stesso Ho dato per scontato Fosse infortunato Ma scemo Io non avevo pensato Alla questione dei 6 falli Ha fatto 6 falli Ah Vedi 43 a 22 Nel quarto quarto Ha fatto 6 falli Probabilmente aveva giocato Tutti e 36 minuti O poco via E quando è uscito Ezea Collier Siamo andati in vacca Più totale Bella per Colentoni Insomma No ma ha giocato un minuto Chi cazzo giocava Playmaker Corey Kispert Te credo che avevamo perso Se ci metti che Cooper Flag Ha fatto 8 punti 9 rimbalzi e 4 assist Gara 7 delle Finals È chiaro che Non potevamo vincere Questa partita Peccato Peccato Sarebbe stata una Chiusura un po' più Felice di questa serie Ma forse la chiusura Non doveva essere felice Visto che Gioco non ci ha aiutato A rendere più speciale Del dovuto Questa serie Mettiamola così Ecco perché Almeno dal lato mio Le intenzioni erano Ovviamente buone Nonostante ciò 3 Finals consecutive 2 titoli E dovremmo aver fatto 4 se non 5 No 4 sicure Forse 5 Conference Finals consecutive Il che comunque Ci rende direi A tutti gli effetti Una sorta di dinastia E allora direi Che per quest'estate 2024 Possa essere tutto I contenuti su 2k24 Sono pressoché finiti Ma arriveranno A breve Brevissimo Quelli su 2k25 Fatemi sentire Vostro supporto Per già Come dicevo prima Il my jam dell'anno prossimo Link in descrizione Per l'offerta del canotto Vi ho già detto All'inizio Grazie per essere stati Fin in fondo Ci vediamo I prossimi giorni Con un nuovo video Ciao boys Per l'offerta del canotto